L'Italia repubblicana può essere divisa in due fasi fondamentali, quella della prima repubblica e quella della seconda repubblica. La prima repubblica nasce con il referendum del 2 giugno del 1946 dopo l'esperienza del fascismo e della guerra. Nel corso di questo referendum gli italiani dovranno scegliere tra la monarchia sabauda e la repubblica e scelgono anche, se con un vantaggio esiguo, scelgono per la repubblica. Il 2 giugno del 1946 viene eletta anche l'assemblea costituente che avrà il compito di redigere la costituzione che entrerà in vigore il 1 gennaio del 1948. Quindi la prima repubblica va dal 1948 al 1992 e può essere ulteriormente suddivisa in quattro fasi, quella del centrismo, quella del centro-sinistra, quella dell'unità nazionale e quella del pentapartito. Il centrismo ha inizio dopo le elezioni del 18 aprile del 1948 che producono il sistema di partiti che arriverà fino al 1992. La Camera dei Deputati, dopo le prime elezioni, sarà suddivisa in questo modo. Democrazia cristiana 305 seggi. Fronte Democratico Popolare 183. Unità Socialista 33. Blocco Nazionale 19. Partito Nazionale Monarchico 14. Partito Repubblicano Italiano 9. Movimento Sociale Italiano 6. Partito Popolare Sud Tirolese 3. Partito dei Contadini d'Italia 1. Partito Sardo d'Azione 1. Quali sono i partiti che poi caratterizzeranno la Prima Repubblica? A sinistra il Partito Comunista, guidato da Palmiero Togliatti, il Partito Socialista, guidato da Pietro Nenni e successivamente il Partito Socialdemocratico, guidato da Saragat. Al centro, oltre a Democrazia Cristiana e Partito Repubblicano, ci sarà il Partito Liberale. A destra, il Movimento Sociale, guidato da Giorgio Almirante. Il Centrismo si conclude nel 1963. Gli uomini politici di riferimento di questa fase all'inizio sono De Gasperi al governo e Togliatti all'opposizione. Dopo la sua morte De Gasperi verrà sostituito dalla Democrazia Cristiana, da Amintore Fanfani. Il centro-sinistra va, appunto, dal 1963 al 1976. Uomini politici di riferimento di questa fase sono, per la Democrazia Cristiana, Fanfani, Rumor, Andreotti, Moro, per il Partito Comunista, Longo e Berlinguer. La fase dell'unità nazionale, nota anche come fase del compromesso storico, va dal 1976 al 1980. Uomini politici di riferimento di questa fase sono sicuramente Moro e Berlinguer. Moro che morirà nel 1978. La fase del pentapartito si afferma dopo il periodo delle larghe intese e della lotta al terrorismo. Caratterizza gli anni Ottanta del secolo scorso e gli uomini politici di riferimento di questa fase sono Spadolini, Repubblicano, primo uomo politico non-democristiano a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, Craxi, socialista, ed Emita, per la Democrazia Cristiana. La Seconda Repubblica ha inizio dopo un periodo definito Mani Pulite e va dal 1992 ai giorni nostri. La Seconda Repubblica stravolge il precedente sistema dei partiti. I due partiti fondamentali di questa fase sono Forza Italia e quello che poi diventerà il Partito Democratico. uomini politici di riferimento di questa fase sono Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Nel corso della Seconda Repubblica l'Italia entra nell'euro. Quali sono le parole chiave della fase del centrismo? La parola chiave della fase del centrismo può essere considerata ricostruzione. L'Italia, grazie anche agli aiuti provenienti dall'estero, comincia questa fase di ricostruzione, che la porterà poi, nel corso della fase del centro-sinistra, al boom economico, ma anche a un periodo di difficoltà nella coesione sociale, che produrrà la strategia della tensione a destra e gli anni di piombo a sinistra. Nella fase del compromesso storico si arriva alla massima espressione, sia della strategia della tensione con la strage di Bologna, sia degli anni di piombo con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta, nel 1978. Aldo Moro che, nell'estate del 78, probabilmente sarebbe diventato Presidente della Repubblica Italiana. Presidente della Repubblica Italiana.